Al GF tre fidanzati famosi, chi sono, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, il grande fratello di dovrebbe partire il prossimo 23 aprile ad entrare nella casa più spiata d'Italia o essere tre fidanzati famosi come anticipa Bollicine Vip anche se di certezze vere e proprie ancora non possiamo parlare. Secondo i rumors più recenti, Endemol starebbe pensando a una versione del GF a metà tra Nip e Vip inserendo nel casta anche personaggi non completamente strani al mondo dello spettacolo. Si parla in particolare di Luigi Mario Favoloso, esuberante fidanzato di Nina Moritz, Matteo Gentilini, ex indispettito di Paola Di Benedetto e di Marco Puccolò, Toy Boy di Lori del Santo che abbiamo avuto il piacere di conoscere meglio durante Pechino Express 5. Al GF tre fidanzati famosi e web influencer, ma non era la versione Nip, oltre alla presunta partecipazione al GF di tre fidanzati famosi, Serpe e Giano. Diversi rumors sulla probabile presenza di web influencer conosciuti da giovani e giovanissimi e sui papabili opinionisti che Carmelita vorrebbe al suo fianco. Smentita categoricamente la presenza di Cristiano Malgioglio alla corte di Barbara D'Urso perché impegnato in altri progetti musicali, le indiscrezioni puntano su e, ma sappiamo bene che tutto può cambiare da un momento all'altro. Continuano i casting per mettere a punto un bel gruppo di concorrenti del Grande Fratello che sappia bissare il record di ascolti ottenuto durante la quarta edizione del reality condotta niente di meno da Barbarella che superò persino il festival di Sanremo di quell'anno. Le aspettative dopo un anno di pausa sono piuttosto alte, staremo a vedere come e quanto rivoluzionerà la D'Urso il GF 2018, guarda la fotogalleri. Grazie per la visione!